Ricordiamo Guido Rossi, ma non puoi cadere il maestro Marani? Stasera è un po' in tilt, diciamo dai, passavogli un grande applauso davvero, si sta facendo in 50 non in 3 C'è il video di Tugnaz, ok? Credo di aver capito così Ricordiamo Guido Rossi, hai sì? No Grazie 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 Grazie